Ci sarebbe una pista precisa sulla quale stanno lavorando i carabinieri per risalire al responsabile della sparatoria avvenuta a Oria alle 3 del mattino in piazza Manfredi nel cuore del Borgo durante la quale un ragazzo di 17 anni è stato ferito a un piede. I militari della locale stazione hanno acquisito e visionato le immagini delle telecamere a circuito chiuso dei numerosi locali che si affacciano sulla piazza. Un lavoro complesso perché la sparatoria pare sia stata preceduta da una violenta lite iniziata in via Manduria. Dopo qualche minuto uno dei contendenti è tornato armato di una pistola, forse un revolver, in piazza Manfredi dove c'erano centinaia di persone e ha fatto fuoco, poi è fuggito dalla stessa strada. La dinamica ancora non è stata ricostruita con esattezza e dunque non è chiaro se il ragazzo di 17 anni ferito da una pallottola alla caviglia destra fosse l'effettivo destinatario del colpo di pistola o se invece si sia trovato per caso nella traiettoria. Certo è che la sparatoria comunque poteva avere un epilogo ben più drammatico, per questo i carabinieri stanno lavorando molto meticolosamente per ricostruire con esattezza l'accaduto e individuare il responsabile.